La struttura magnifica, l'organizzazione, l'ottimono di avere questo gioco meraviglioso, ma a volte è anche un pregio, le scuole che giocano bene e poi magari non fanno risultati e non vanno insieme in Vega Pro. Il Foggia sta facendo il suo, quello che deve fare, oggi mi pare che sia tornato in venta, perché il piloto è già a notte. Sto lavorando, sta parlando, sta parlando, manca un tempo di gioco, manca un tempo di gioco, Gioca con uno in più. Ah ecco, io sono rimasto perché per 14.30-15, non abbiamo il quadro completo alla fine. Non abbiamo un solare. Ecco, va bene, va bene, comunque, vorrei dire se la giocherà fino alla fine, ma c'è tutto per andare in Vega Pro, ci manca un'altra. Anche se, devo dirvi una curiosità, se mi interessa, io ho delle squadre, le abbiamo affrontate praticamente tutte, e io, la squadra che è più una persona di Cerniola, sinceramente è una squadra veramente fuori categoria, non so come faccia, non stradisce questo campionato.